Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Vallada a Gordina perché l'ospite in studio è il Sinaco Lucchetta. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Partirei iniziando a fare un po' un resoconto di quali sono i lavori e i progetti in partenza e invece quelli che sono già partiti o che addirittura si sono già poi concretizzati. Sì, fortunatamente sono stati anni buoni per tutto il territorio belunese, partendo dalla grandissima sfortuna di Varia che conosciamo tutti e quindi quella comunque ha dato un grandissimo impulso semplicemente perché sono arrivati tantissimi fondi. Abbiamo cercato di utilizzarli al meglio, quindi messa in sicurezza il territorio che è la cosa più importante e poi per quanto riguarda tutte le altre possibilità di finanziamento che abbiamo avuto abbiamo cercato di contenere le spese energetiche che siamo stati, io dico anche un po' lungimiranti nel senso che questo ci ha permesso di stare un po' tranquilli rispetto a delle situazioni estremamente complesse, difficili. Ma siamo riusciti a tenere il colpo perché i piccoli enti comunque, sai, devono sempre cercare anche di guardare quelle in mille euro, in cento euro. Avendo fatto un determinato tipo di scelta due barra tre anni fa ci ha dato l'opportunità di non tagliare completamente determinati servizi. È pur vero che, esempio, durante la notte abbiamo tagliato l'inominazione pubblica. Fa sempre male quando tu fai queste scelte perché il togliere qualcosa, perché io penso che devi anche, quella era un'abitudine, l'abitudine di avere un'inominazione 24 ore su 24, ovviamente quanto serve. Forse le mari nelle ore notturne, quelle dove onestamente poco serve, forse oltre il fatto di vedere un vantaggio economico, forse è anche corretto farlo, ma penseremo di mantenerlo anche nel prossimo futuro, quando questa emergenza rientra. Comunque, tornando alla tua domanda, stiamo lavorando quindi sulla messa in sicurezza del territorio, cercare di dare più servizi possibili, creare parcheggi nuovi, perché comunque le piccole realtà, come Vallada-Guardina, sono soggette ad avere molte seconde case e quindi queste ovviamente ti mettono un po' in difficoltà, soprattutto in determinati periodi dell'anno. Quindi cerchiamo di lavorare su questi ambiti, i progetti stanno andando avanti, certi sono stati completati, certi continueranno o iniziano a breve. Abbiamo fortunatamente avuto anche dai fondi di confine una cifra importante per Vallada, quindi 1.350.000 euro, questo ci dà l'opportunità di creare nuovi spazi per possibili negozi, insomma cercare di mantenere il paese sempre vivo, sempre nell'ottica di tenere la gente sul territorio, cercare di avvicinare questi servizi che sono basilari e perché no, ma ridiventare attrattivi, questi sono i grandi obiettivi che cerchi di raggiungere il nostro piccolo. Ecco, è importante anche poi il tema del lavoro nelle vallate, tra i posti, c'è una grande crisi diciamo nella ricerca di personale per le aziende, però spesso la riscontriamo anche negli enti locali. Dove in questo momento avete bisogno di trovare qualcuno, state facendo fatica, dove siete eventualmente in difficoltà? Assolutamente sì, noi facciamo parte della grande famiglia degli enti locali, anche se siamo piccoli, quindi ti ritrovi comunque a avere del personale che si avvicina alla pensione, proprio da poco abbiamo fatto uscire un bando per l'assunzione del responsabile dell'ufficio finanziario, speriamo, sai, purtroppo è una realtà, sotto un certo punto di vista puoi dire viviamo in una realtà fortunata, non la nostra, la realtà bellunese è una realtà che ha molti posti di lavoro, però la forza lavoro è quella che è, quindi dovremmo anche lì importare comunque delle persone da fuori. Questo comunque ti dà concorrenza ed è ovviamente la concorrenza non sempre a favore, esempio, degli enti locali, perché una persona qualificata, capace, magari preferisce fare una scelta nell'andare nel privato o per tutta una serie di situazioni, non so, come a Gordino mi viene sempre in mente la grande luxottica la quale riesce a fornire delle situazioni lavorative sicuramente migliori, mi viene in mente il welfare, quello che ovviamente un ente locale, un piccolo non riesce a farlo. È un po' passata la moda del famoso posto fisso nel pubblico che sicuramente garantisce tante garanzie, ma ormai anche questo lo garantisce non soltanto il pubblico ma anche il privato. Questo è un grandissimo problema. Tre figure classiche che mancano in genere sono il segretario comunale, il vigile e gli operai. E lì siamo fortunati, diciamo che noi abbiamo una forza di lavoro di due operai, che ovviamente mi premetto anche di ringraziarli qui in questa sede per il grandissimo lavoro che fanno, ma soprattutto perché rimangono il nostro ente, per le stesse logiche che dicevo prima, perché sicuramente ci sono delle situazioni che sono molto più attrattive, magari anche per quanto riguarda la parte economica. Noi non possiamo fare nulla a quello che possiamo offrire, però credo che ci deve essere anche un po' l'amore per il proprio territorio. Chi lavora all'interno di questi enti, lavora anche con questo spirito. Se tu hai lo spirito che tieni alla tua gente, al tuo territorio, forse hai quella marcia in più, ovviamente. E quindi io dico, magari ti accontenti di situazioni che non sempre sono così ottimali rispetto a altre situazioni. Ecco, poi peraltro la presenza di persone sul territorio modella e indirizza i servizi. Iniziano a calare le persone, si rimodulano i servizi e questo spesso poi crea magari un'altra riduzione per le persone che scelgono un paese. Cioè si creano dei circoli... Le dinamiche sono proprio quelle che stai dicendo tu. Non è facile, anzi io dico che trovare la medicina per porre rimedio a questo sia complicatissimo. Noi nel nostro preco non siamo... Credo che ci vogliano veramente delle politiche ad altissimo livello le quali prendono in considerazione questo. Io sono anche abbastanza ottimista, nel senso che... Vedi, io faccio sempre questo esempio. Quando le terre alte, perché hanno determinate caratteristiche, un po' si lamentavano denunciando già tutto quello che stava accadendo. Ora sta accadendo anche nei grandi centri nel Bellunese che non hanno mai avuto questo tipo di problema. Forse nel momento in cui tutti hanno lo stesso problema magari veniamo un po' più ascoltati. Sì, no? Speriamo, questa è la mia speranza, però come ti dicevo servono delle politiche per la montagna, la montagna vera, una politica che ovviamente non può fare neanche una provincia e forse nemmeno la regione. Credo che ci voglia una politica a livello nazionale forte, importante, come hanno fatto i nostri vicini. Si vede che lì riescono sicuramente con dei fondi, ma a incentivare il fatto che anche nei piccoli paesi, nelle zone di montagna si possa vivere, perché la qualità è sicuramente elevata. Cioè, tutti lo dicono, come ti dicevo prima, le nostre realtà hanno molte seconde case e vediamo anche che molti, cioè, non molti però, insomma, qualcuno addirittura decide o di trasferire la propria residenza o comunque di vivere il nostro territorio in modo continuativo. Però quali sono queste persone? Sono persone generalmente in pensione. È ovvio che si ritorna alla stessa logica di prima. Se tu hai un'età media elevata, il servizio che tu devi garantire è sicuramente un servizio più portato a queste persone rispetto che magari alle famiglie che iniziano magari a calare. Trovare l'equilibrio è assolutamente complesso. C'è la possibilità però di lavorare anche da remoto, no? Nel mondo di oggi è molto diverso rispetto a quello magari solo di 20-25 anni fa, ma naturalmente deve esserci l'infrastruttura, deve essersi, no? Internet deve funzionare, devi essere collegato con il mondo, perché altrimenti ti porti in periferia e diventi anche, entri nella periferia del mondo del lavoro. Quindi sono importanti anche i collegamenti con il mondo. Assolutamente hai ragione. Su questo io dico la politica ha fatto una scelta vincente, perché ha portato anche, e io dico, almeno nella nostra realtà, nella frazione più piccola, la fibra. E tutti sappiamo l'importanza di queste infrastrutture. Il mondo è cambiato, il mondo è cambiato. A me viene sempre in mente tre anni fa, insomma, quando siamo entrati nel nostro drama Covid. Abbiamo capito come soltanto se tu sei infrastrutturato a alti livelli riesci comunque a far sì che tutto il sistema vada avanti. Noi la fibra l'abbiamo, possiamo dire di essere anche dei privilegiati, perché ricordo un giorno ero a Bologna e sai che ti fermano le persone, ti propongono dei contratti e quando dissi che a Bologna c'era la fibra da un giga mi dicono, come un giga? Cioè non l'abbiamo nemmeno noi. Quindi bene, vuol dire che comunque, come ti dicevo prima, la politica se vuole riesce a fare delle politiche vincenti. Su tutto questo punto di vista l'ha fatta. Ecco, poi c'è un'altra infrastruttura a cui si pensa molto, di cui si parla molto in questo periodo, che è quella idrica. Voi avete delle criticità, avete dei problemi sotto questo punto di vista? Scusa, no. Quella idrica. Ah beh, quello è un altro problema. Allora Vallada non ha finora avuto problemi. Speriamo però, ovvio che c'è la preoccupazione. La preoccupazione è che comunque abbiamo avuto due anni, dove le precipitazioni, soprattutto navose, nel periodo invernale, sono state estremamente scarse. Quindi la problematica c'è. Ad oggi non abbiamo ancora dei riscontri in merito a questo problema, però siamo sempre molto vigili. Quello che noi diciamo sempre, cerchiamo di utilizzare al meglio questa risorsa nella consapevolezza che però non lo puoi immagazzinare. Quindi il problema, speriamo di poter, intanto che la primavera sia buona e quindi ci siano delle precipitazioni che possano darci un po' di respiro, anche per quanto riguarda tutto l'ecosistema, non soltanto legato alla nostra esigenza idrica personale. Poi vediamo quello che succede, però anche lì bisogna muoverci. Per anni abbiamo detto che il nostro sistema è un sistema difficile, complesso, con molte perdite. Il gestore sta lavorando, sta lavorando bene, anche lì salvano risorse e dobbiamo andare avanti per raggiungere questi obiettivi. Diciamo che ci si confronta sempre con gli equilibri della natura, no? E' una delle sfide di cui si parla molto negli ultimi anni, quella legata alla convivenza con il lupo. Questo, sai, quando tu inizi, diciamo, la tua, non dico la carriera, ma insomma il tuo percorso da sindaco, no? Ormai sono 14 anni che ricopro questo ruolo e io dico, l'abbiamo un po' provate tutte, no? Ci mancava proprio il lupo. Far sorridere, però allo stesso tempo è un problema serio. Io ne abbiamo parlato, sono stati fatti dei convegni. Certo è che il territorio, la nostra gente non è abituata a convivere comunque con un animale che, sì, ci sarà anche stato, ma insomma negli ultimi cent'anni di certo non si è mai visto. Nel periodo natalizio un paio di volte mi è accaduto, ancora durante il giorno, all'imbrunire, nel vedere il lupetto che tranquillamente cammina per la strada pubblica, questo sicuramente non ti mette nelle condizioni di star tranquillo. Devi anche lì trovare degli equilibri. Sai, da una parte dici, ma è corretto che non possa più, cioè, o che tu debba vivere un po' anche con la paura, nel dire, non so, tua figlia, tuo figlio, che sono piccoli, che noi siamo stati abituati, diciamo, a vivere la montagna, a vivere il bosco, a vivere i spazi verdi, no? Possiamo ancora viverli in un modo tranquillo o dobbiamo avere una preoccupazione? Non è facile, capisco anche le esigenze della serie, l'animale è comunque nella sua natura e va fatto vivere, però veniamo comunque da anni dove il cervo e gli ungolati ci hanno messo in difficoltà, quindi ha messo in difficoltà, usi i costumi che avevamo fino a poco tempo prima, perché le palizzate a due metri per poter mettere in sicurezza il tuo orto non avresti mai pensato 30 anni fa, ora devi fare anche quello, quindi già siamo stati un po' violentati da una situazione che sicuramente non è stata voluta da nessuno, ma è un disequilibrio, quindi il trovare l'equilibrio sarebbe forse una cosa corretta, non so come, non è ovviamente il mio compito, però la preoccupazione c'è. E l'hanno espresso anche i cittadini? Eh Dio sai, ora è uscita anche la problematica dell'orso, sappiamo che negli anni qualcuno si è anche visto, insomma non è proprio così un bellissimo biglietto da visita, siamo consapevoli di vivere la natura, però forse questi problemi preferivamo non viverli, mettiamolo sotto questo punto di vista. Ma avete avuto, una cosa che non so, avete nel territorio di Vallada magari dei transumanti, chi ha le greggi, chi ha avuto magari qualche attacco? No, che sappia io no, sicuramente comunque bestie diciamo selvati che trovate sbranate, sì questo è un dato certo, insomma quello che accade io dico in tutta la provincia di Belluno, perché noi forse siamo stati univiso alla felice per qualche anno in più rispetto a altre zone, invece che mi viene in mente il Neve, Galmano solo, Dal Pago e tante altre realtà, le quali sono anni che combattono anche non soltanto, proprio a livello aziendale, e non è una cosa semplice. Grazie Emile per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie anche a chi ci ha seguiti, buona continuazione.